Allora quasi ci siamo, abbiamo l'attesa di qualche secondo per l'attesa perché stanno finendo di mettersi, adesso in giurati la raccomandazione che ripetiamo è il secondo votazione chettate, avete visto in abito da sera, lo vedrete in costume, ripetiamo dall'1 al 10 il voto, potete dare anche il mezzo voto, potete dare anche il mezzo voto, però la parte finale dove è scritto il voto finale, ripetiamo, non deve essere né la media e né la somma, decidete voi perché il conteggio viene fatto, sono l'ultima volata. Eccoci, siamo pronti. Ciao Rafi, più veloci, più veloce. Andiamo a conoscere meglio i nostri concorrenti che sfileranno appunto, come stai spiegando tu, il costume da bagno, come di solito è l'uscita più attesa da tutti, siete pronti? Sì! 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 Bene, allora vi ripresento la concorrente numero 1 Elena Cossamai, lei ha 19 anni e segno giornalale, vergine. Sì! 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 Numero 2, ripetiamo anche Melania Vedovatto, la nostra Melania ha 21 anni e segno e adesso die Saale Campo Grazie alla PIA che è il soggetto del prorogo del battaglio e l'attivazione comunale. Grazie a tutti per la ricerca cattolica. Porta numero 3, Alexia Lago, a 19 anni, segno zodiacale, foro. Porta numero 3, Alexia Lago, a 19 anni, segno zodiacale, foro. Porta, segno zodiacale, pesci, a 15 anni, porta il numero 4. Grazie a tutti per la che stanno lavorando per questo bellissimo stand di Semania, Semania, Semania. Concorrente numero 5, rivediamo anche la nostra Valentina Savastre. Lei ha 16 anni e il suo segno zodiacale ha il cancro. Grazie a me che l'abbiamo visto svilare, prima andatelo a trovare lo spazio è qui, a San D'Ambrogio, grazie. Rivediamo anche la numero 6, si chiama Chiara Tarruzzo, a 15 anni, il suo segno zodiacale, il Capricorno. Rivediamo anche la nostra Valentina Savastre. e ringraziamo al ruolo del cucino, il piccolato è il Pistali, dove vede una passa che vince fuori da prima il suo San D'Ambrogio, che vuole dire se è grazie ai titolari, perché sono sempre presenti in ogni attività paesana, in ogni momento che sta presto a San D'Ambrogio, si va a bussare e l'alimentatore del cucino dice sì, ci sono, grazie. Questa è il numero 7, si chiama Simona Carraro, ha 16 anni e il suo segno zodiacale è Fesci. Grazie alle costruzioni di un mero alto a Scorza, è sempre scontro di Barca, grazie. Rivediamo anche Michele Releparna, ha 20 anni, il segno zodiacale ti lancia, porta il numero 8. Grazie a Renovacostruzioni, SRL via Ferrara a Tre Paselli. Numero 9, Magdalena Brunazzonda, 17 anni, segno zodiacale, Capricorno. Grazie a Renovacostruzioni, SfG di Antonio Pernino, grazie. Continuiamo con la concorrenta numero 10 e vediamo Stella Dalmaso, 17 anni, siamo zodiacale, vai già! Grazie a Green Garden per i colori che ci ha portato e grazie poi per gli omaggi foriali alle miss, grazie! Numero 11, segno zodiacale sagittario, chiamo Maria Busellato e ha 17 anni! Grazie a Rosiana Calcio, tre passere che grazie e bocca a Lico per tutto il percorso del campionato! E continuiamo con Giorgia Zangon, numero 14, ha 19 anni e il suo segno zodiacale è Rieone! Grazie a Cazzani Donaci, tradizionali di Alpi e Claudio e Bruno Sant'Aprodto! Anche la numero 15, segno zodiacale è Leone, si chiama Nelani Cervini e ha 17 anni! Grazie a Patrick Macchi e a San Lucillo Orlando che sempre fa il suo! Nuovo centro revisione a scartola rara di Sero Branco, quando la vostra macchina tossisce andate da parte in macchina, grazie! E vi ripresenta nel nuovo la coppia numero 16, Alessia Cepin, 19 anni, bilancia! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie, è sempre tecnica e solario, ma qui, e grazie anche alla parrucchiera Saldì, grazie. Continuiamo con Chiara Carolla, numero 17, ha 15 anni, segno zodiacale, cancro. Grazie a GF Gospesi per i prodotti di calcio tra le ragazze, grazie alla titolare, GF Gospesi. E ora vediamo la numero 19, Vivian Gammarco, ha 17 anni, segno zodiacale, vergine. Grazie a GF Gospesi. Grazie a GF Giorgio, grazie alla parrucchiera, la torre a Camposampiera. Continuiamo con la concorrente numero 20, segno zodiacale, cancro a 16 anni, si chiama Silvia Pastrello. Grazie a GF Giorgio, grazie per i soldi di calcio, grazie alla polizia municipale, volatere della protezione civile. Il suo segno zodiacale è saggitario, lei è la concorrente numero 21, si chiama Taziana Censia, vendi tratti. Grazie ai fotografi, poi da Leonora li conosce tutto e li puoi fare tu i nomi. Sì certo, li conosco tutti, Mario Bonesi, Paolo Stramare, Dino Giuliani, Nicometti e Nicola Bongo. E' andato in ordine di 20 anni. E continuiamo con l'ultima concorrente in gara, la concorrente numero 22, Alice Ballan, a 21 anni e segno zodiacale, Pesci. Grazie, abbiamo terminato la visione, non è a terminare. Sì, perché la rifacciamo tornare alle origini, oggi è una modella viva, su di lei fanno, fuggiono i bellissimi campi, di quale cassa vai cassa? Mi domando a Servino. Grazie, e allora stasera, Visto, se questo è suo? No, questo è un'altra azienda per cui lavoro. Per chi è? Per sei, who are you? Oh, senti, e questo vi dice, quando Leonora ha iniziato così, come per voi, qualcuna ormai ne ha fatte tante, forse lo può essere pure a fine esperienza. E' iniziato con voi, eh. Grazie, Leo, dammi il paere. Ville, non diciamo l'anno perché sennò scopriamo l'età, l'età non ti dice mai. L'età, sì. Non posso stilare, veramente, ma no. Non posso stilare, dammi il microfono. Eccolo voi, Eleonora Solato. We are easy. Grazie. Grazie, Leo, dammi il microfono e poi riconvosto stasera perché presenta qui. Grazie, Leonora. Grazie, dammi, mi diverso sempre, sono tante, ho un po' spasso. Vi facciamo fare un'altra passerella e poi vi torno. E li vediamo dalla numero uno. Eccole. E' un'altra, ragazze. E' un'altra, ragazze. Grazie a tutti. La bandiera italiana, vedete che sono predominanti il bianco, il rosso e il verde e anche la passerella, c'è il bianco di fondo, la passerella è il tappeto rosso e il verde di minigonna alla passerella, veramente, veramente, grazie, veramente sanno fare, vedete tutte le bandiere di tantissimi stati appesi e sappiamo quanto sono importanti essere uniti, essere insieme. La bandiera italiana, la bandiera italiana, la bandiera italiana, la bandiera italiana, la passerella è il tappeto rosso e il verde di minigonna alla passerella. La bandiera italiana, 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 la Allora Marco siccome sai che anche io avevo la tendenza a spezzare nella cartellina dei presentatori. Così eri? Eh sì, bisognava così. Allora io mi dai Marco, ci sottiamo a metà posterella, così l'arrivo, anche se ando agli occhi lunghi non vedono. Lei è l'esperienza in centro. Eh vedi com'è. E' arrivata. Scherziamo, dove ci mettiamo? Dottore qua ci mettiamo di qua di là, di qua di là del Piale. Allora facciamo così, premiamo la misa, la fascia, poi la misa farà la passerella con la fascia, poi è foto di rito con i vari sponsor. Se gli sponsor si sentono, possono fare la passerella con la sua misa in fascia, eh. Allora vi ripetiamo, lo diciamo ai genitori. Il giornalista Michelangelo Cecchetto dice, Capriotti, io dicevo, organizzo, organizzo, come si chiama? Condorsi di misa, volete costicine? Perché mentre facciamo le misa, voi mangiate volete costicine? Frittura, polla rosso, quello che volete, però invece mi ha detto lui, Eleonora, e mi è piaciuta, ha detto, no Capriotti, tu non organizzi, volete compis, volete costicine, ma organizzi elementari della bellezza. Con noi, Eleonora è il testimone, lo diciamo tantissime per tutti, Eleonora, lei è diventata una modella famosa, io dico per tutte, la Eleonora Pedrona, la prima passerella in assoluto, in assoluto la fatta Miss Fragola a Campo San Viero, era il 1997. Il 1997 ci dicono, Eleonora Pedrona, lui è il giornalista, il 1996, chi è che contraddice di non giocare? È impossibile, è impossibile, grazie, e sono passate tantissime, lo dovete imparare i genitori, lo dovete prendere come un gioco, e la vita non si sa mai, oggi ha la fascia, domani non ce l'ha, ma prendetela così, serve per crescere. Siamo pronti? Sì, siamo pronti, allora direi di far avanzare la fascia di Miss Fardin, revisione diagnostica elettronica. Ah sì, giusto? Miss Fardin, revisione diagnostica elettronica, la intossa, e con gli scontri ci devono dire loro, fare pubblicità alla loro attività, noi non diciamo più niente, lo possiamo dire ma è bello sentire anche la voce. La fascia non la vedo ancora, la fascia sta arrivando. È pronta, è pronta? Un cenno da dietro le pinte, arrivano i regali prima. Miss Fardin, revisione diagnostica elettronica. Perfetto, forci i regali danno, vediamo, decidono, diamo i regali a tutti, eccola qua. La Presidente non ha più la distribuita i regali, gli facciamo dire due parole. Sì, sì, allora torniamo indietro, dai. Ecco qua. Premiamo prima tutte le nostre messe che hanno partecipato alla serata e ci sono divertite con noi questa sera. Eccoli qua, grazie per distribuire. Allora poi ci sarà distribuire dalle ragazze a cui manca il premio. La Presidente, la signora Pierotti Chetti, che è Presidente di giuria, ci dice due parole. Sì, sì, no, le difficoltà dei giurati, che ha già detto no, 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 no. Antonio, la facciamo lavorare questa sera? Eh, 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 Antonio Presidente. I vari premi. Antonio, mio Presidente, eh, eh, e Torso Antonio. Grazie. Ricordiamo Chiotistar, i bergeri. Oh, grazie. Mi vuol dire che le nostre messe sono già più lunghi. Ecco qua, i regali a tutte le messe che è bello. Poi, come mi dà la faccia, chi prende la faccia, accorgiando i regali, toglie, indossate la faccia, fate una passerella insieme al rispondore, eh, sponso la passerella con la vostra Miss di Pascia. La nostra Marilena ha già la coloccina pronta. E allora, passiamo ad arrivare la faccia di... La prima faccia di... Miss Partin, revisione diagnostica elettronica. Ce l'abbiamo la faccia? Pronta. Eccola che arriva la faccia, vediamo, vediamo. Partì, grazie, Orlando e Giuseppe Faesso. Facciamo uscire. Eccolo, alleluia. Orlando e Giuseppe. Ce l'abbiamo. Orlando? Lei è Orlando? Contento della sera? Ogni anno veniamo da te. Fai sempre la faccia. Eh sì, affinché ci sta schemi. Dai. Siete bravissimi, siete bravissimi. Se vedete sulla brochure la fotografia dell'officina, andateci perché sono dei professionisti. Vengati vicino a noi. E ti vince la faccia di Partin. Vince la faccia la concorrente numero 11, Maria Busellato. Eccola qui. Eccola qui. Eccola. Vi da una mano. Eccola. Venite avanti per la foto di Dito. La foto con le foto. Guarda come la sa curare. Eh 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 eh. Eccola qua, che ti da una mano. Eccola, venite avanti per la foto di Dito. E ora la sfilata è tutta per la nostra pastorella per lo sconto, possiamo anche quella, la nostra Maria, punto il lato e la faccia, grazie, queste le parti che stiamo dando sono tutte in tempo, bravo, donna, non c'è, un elenco così, allora, non c'è, donna, vissi, donna, cittazzano, arriva la faccia, è pronta, è pronta, è pronta, la faccia ce l'abbiamo, prego, e allora, Missy, intonaci, con Caro, prego, più vicino a noi, è la concorrente numero 16, Alessia Cettin, Alessio, Claudio, Claudio, lei, grazie Claudio, bravo, 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 la fondo, bravo, la passerella, Claudio, e la pastorella, Adesso andiamo a consigliare la fascia di Miss Ambrosiana Cazzo, tutto sbaglio, Miss Ambrosiana Cazzo, e premia il presidentissimo, allora, all'ogno passo, è con me, Roxy nell'asco di terminolo, Roxy Costantino, ti senti Roxy Costantino? E per tanti anni che ci sei in mezzo lo puoi anche essere, allora, vince chi? Vince la fascia, la concorrente Elena Possamai, concorrente numero 18! Grazie per la faccia, Benito! Grazie per la faccia, Benito! Grazie per la faccia! Adesso, adesso dobbiamo andare, dobbiamo andare che? Che fascia è qui? Vince Bossolo Green Garden Green Garden è l'arredo, i colori del palco, gli omangi alle Miss, vince che il Garden vince la fascia, la numero... La fascia è pronta e la vince la numero due, Elania Vedolato! E premia il presidenteissimo! Grazie, Benito! Grazie per la faccia, Benito! Grazie, Benito! Grazie per le nostre miss, per l'assessore Foto Di Ninja! Assessore e signore Atriza Marco! Assessore della misa, assessore della misa Foto Di Ninja! La Presidente non ha voluto dire nulla, lei che fa parte della storia ci dica due parole La Presidente è sempre più difficile, è sempre più difficile Grazie, grazie all'assessore, grazie adesso andiamo a premiare invece la fascia numero uno Miss Sorriso Fratelli Basso E' pronto per la fascia, eccola qui, è pronto per la fascia, è pronto per la fascia Prontissimo, e allora vince la concorrente numero 19, vini angallato E' pronto il basso marco che indossa la fascia, per la sua attività Vincenzo Sorriso Fratelli Basso, l'azzo vigilia, scartolana, spazio legno Vincenzo a parte Vincenzo, andiamo, andiamo fisse E allora adesso siamo in zona foglio, allora io direi, se tu sei d'accordo, di chiamare le prime traspassificate in ordine sparso e poi scoprire chi sarà appunto la terza di attività Io dico le fasce, tu dici numeri a ordine sparso Allora la fascia che andremo a consegnare le tre fasce, tra queste tre ci sarà Miss Sant'Ambrogio 2016, la prima fascia è Miss Costruzioni Domiero, Miss Sant'Ambrogio Arredo 3 Cucina e Miss Costruzioni Renova E siamo qui, vicino, anzi lo facciamo qui appena il vetro a noi La concorrente, la prima concorrente che si aggiudicherà il podio, la concorrente numero 20, Pastraio Silvia Poi chiamiamo la concorrente numero 21, Tatiana Censi Tra di loro c'è la nuova Miss Sant'Ambrogio Eccole qui le prime tre classificate di Asperata Allora adesso invece Facciamo arrivare la fascia di Messa Costruzioni Renova Ecco qua Miss Costruzioni Renova, il titolare Ecco il titolare Lo dicevamo in prenditenta sempre E lo dobbiamo dire, sempre presenti nei momenti di festa del paese Qualsiasi momento, sia esso di tempo libero, loro sono sempre presenti Grazie, grazie, grazie Allora questo Premia la terza classificata della serata La concorrente numero 21, Tatiana Censi Grazie Il signore si chiama invece? Dennis Dennis La passerella è tutta per lei Prima la foto di Vito e poi la passerella Fermi per la foto E poi la passerella Grazie Grazie Il tuo momento di programmare la principrice della serata E di conseguenza E di conseguenza tra le due E vi ripeto Vi ripeto i numeri Giocatori all'otto Al secondo l'otto Al grande pigia Credo che cavolo vorrete Ma giocateli Giocateli Perché adesso diciamo la prima E allora Se abbiamo la fascia pronta Della prima classificata Ovvero Miss Sant'Ambrosio La reto pre-cucine Ce l'abbiamo Eccola qui La signora Marilena Con la coroncina Perché signori e signori Mi è caduto anche il foglio Ma io lo raccoglio in velocità La numero uno è la numero uno È la concorrente 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 numero uno Della Miss Sant'Ambrosio Clevini 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 No Look at me Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Un omaggio coreano a tutti quanti, il Presidente Borginia e la Boccioglia. Un omaggio per tutte le nostre emise che hanno partecipato questa sera. Grazie a tutti. Vi ringraziamo per il vostro calore, per i vostri applausi, per la vostra e numerosa fortezza. Io vi ringrazio a Eleonora Solato. Da Marco Capriotti. E Eleonora Solato. È tutto, arrivederci e al prossimo anno Marco. Ci è volendo, grazie, buona serata a tutti, grazie. Ecco là, appena finito. Grazie a tutti. Grazie a tutti.